E' toccato all'inedita coppia composta da Giorgio Pasotti ed Emilio Solfrizi presentare al Maxi Cinema Andromeda di Brindisi il film Un Matrimonio da Favola, uscito in 300 sale italiane dal 10 aprile scorso e attualmente al primo posto tra i film italiani in programmazione. La presenza di due degli attori che compongono il cast del nuovo film diretto da Carlo Vanzina e sceneggiato dal fratello ha rappresentato l'ennesima tappa del tour promozionale scelto dalla produzione firmata dall'Italian International Film di Fulvio e Federica Lucisano in collaborazione con Rai Cinema per coinvolgere anche il pubblico pugliese, nel particolare quello brindisino, alla visione della commedia corale che vede come protagonista principale l'attore romano Ricky Memphis che interpreta Daniele, promesso sposo di Barbara, interpretata da Andrea Oswald. Il film parla appunto di cinque compagni di liceo inseparabili a scuola che si ritrovano vent'anni dopo la maturità. Daniele, l'unico ad aver fatto carriera, invita tutti al suo matrimonio a Zurigo con Barbara, figlia del noto banchiere svizzero per cui lavora. Gli ex compagni accettano entusiasti e l'occasione per una rimpatriata, anche se per loro la vita non è stata altrettanto generosa. Ognuno aveva mete e sogni ma nessuno è riuscito a realizzarli. Rivedendosi i cinque amici ritrovano il calore e la complicità di un tempo, ma si trovano anche a rimettere in gioco le loro vite e le loro aspirazioni. Durante quel lungo weekend in Svizzera avranno modo di raddrizzare i loro destini in una girandola di equivoci, situazioni comiche e rocamboleschi, colpi di scena, in cui i cinque faranno saltare i loro precari equilibri ed ognuno finalmente troverà il coraggio di esprimere la sua vera natura. Il matrimonio di Daniele non sarà esattamente da favola, ma i cinque ex compagni si ritroveranno dopo vent'anni, come il giorno della maturità, pronti a ricominciare le loro vite. Giorgio Pasotti, che nel film veste per la prima volta nella sua carriera i panni di un gay, ed Emilio Solfrizzi, che nella pellicola è un uomo sposato che nasconde spudolatamente la moglie e la giovane amante, hanno raggiunto la struttura cinematografica brindisina incontrando i giornalisti in conferenza stampa e successivamente, presentati dal giornalista Nicolo Russo, hanno salutato gli spettatori dello spettacolo delle 22 e 40, visibilmente entusiasti ed emozionati per l'incontro con i protagonisti del film. Se avete voglia andate a vedere Un matrimonio da favola, è un film divertente, tanti film promettono tante cose, questo è uno di quei film che promette e mantiene, per cui due ore di sano divertimento, un film su un gruppo di amici e cinque ex compagni di scuola che si ritrovano al matrimonio del più sfigato di loro, quello che era stato bocciato a scuola, l'unico alla maturità, che invece questa volta si prende la rivincita dalla vita e sembra che possa sposare la figlia del più grande banchiere svizzero, ne succederanno di tutti i colori. Vanzina come il buon vino, invecchiando migliora, questo è un film riuscito, è ritornato al sapore della vera commedia, la vera commedia all'italiana fatta di equivoci, situazioni molto particolari, dove veramente portano il pubblico a ridere. Abbiamo fatto non solo un'anteprima a Roma, in varie città, ma delle visioni per un pubblico e ho visto, e non lo vedevo da anni, persone con le lacrime agli occhi e dalle risate, quindi questo è un piacere per noi che lo facciamo, ma è anche un piacere per il pubblico che finalmente passa due ore divertendosi seriamente. Un red carpet di tutto rispetto, insomma, che il Maxi Cinema Andromeda e Summer Time Animazione Spettacolo hanno pensato per rendere ancora una volta Brindisi e la sua provincia protagonisti, regalando un modo alternativo di far vivere la città. E nulla, ripetisco, è un film che noi stiamo promuovendo. C'è un film che abbiamo oggi, un film, veniamo da Milano e c'è un solo che spaccava le piedi. Ma tu lo sai, io l'ho preso per scopo. Grazie. 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 Grazie.